Una vigilia carica di adrenalina manc di fiducia. In casa Siracusa l'attesa per la finale play-off con l'Enna, il cui primo capitolo in programma domani al generale Gaeta è trascorsa con squadra e società a lavoro a testa bassa per non farsi trovare impreparati al doppio appuntamento. Il tris di successi con città di Taormina ed Ercolanese ha dato consapevolezza non solo al gruppo squadra ma anche a una piazza che giorno dopo giorno si è sempre più stretta attorno alla squadra allenata da Gaspare Cacciola e che adesso si trova di fronte allo scontro più importante di tutta la stagione. Sicuramente mi aspetto partite difficili, complicate perché l'Enna è una squadra che conosciamo in modo particolare conosco tanti giocatori perciò so di andarmi a giocare la Serie D contro una squadra forte. Per l'allenatore sono le partite più semplici da preparare non c'è bisogno neanche di stare lì a parlare, a motivarle. Loro lo sanno, sanno che indossano una maglietta, una maglia importante e loro ci tengono in modo particolare forse anche più di me. La partita contro l'Ercolanese ci ha dato ulteriori conferme sulla nostra forza e ora ci attende questa finalissima, una partita delicata che sarà decisa sicuramente dagli episodi. Noi siamo contenti che anche gli scettici si siano ricreduti su quello che era la nostra forza e la bontà del progetto. Il mister è stato molto bravo a tenere la squadra concentrata perché questa formula di playoff quest'anno è molto complicata, nel senso ci sono tanti periodi di tre settimane senza partite perché dal 16 aprile al 7 maggio, dal 7 maggio al 28, quindi due blocchi di tre settimane senza agonismo è molto difficile tenere la squadra concentrata. Il mister e lo staff hanno fatto un lavoro egregio nel tenere tutti sotto pressione e i risultati sono visti. In questi giorni di attesa lo sguardo del club Aretuseo si è proiettato già oltre la partita di domani. La società azzurra sta lavorando all'acremente per arrivare alla riapertura della gradinata Pippo Invesi, chiusa da anni in vista della sfida di ritorno in programma domenica 18 giugno quando il desimone dovrà trasformarsi in una bolgia. I lavori sono già a buon punto perché abbiamo impiegato circa 15 persone per pulire tutto quello che era il retro della gradinata, pitturare tutta la gradinata, siamo a metà dell'opera quindi ci sono tutte le condizioni per poter avere l'agibilità. Pensiamo che per lunedì sera i lavori dovrebbero essere tutti finiti e poi chiedere subito lunedì stesso la visita della commissione che deve essere verso giovedì, mercoledì il più presto possibile anche perché dobbiamo mettere in vendita i biglietti anche per la gradinata. Perché è dura? Perché io sento tantissimo la partita, perché la vivo veramente intensamente. Il primo lavoro per me in questo momento è il Siracusa Calcio. Ho abbandonato l'azienda e quindi mi sto dedicando dalla mattina alla sera per cercare di risolvere e non da solo insieme al mio socio di risolvere i problemi del Siracusa Calcio.